La potente preghiera all'augusta regina del cielo per schiacciare la testa a Satana. Il maligno è sempre nelle nostre vite e si manifesta in moltissimi modi. Egli utilizza vari stratagemmi per ingannarci, per approfittare di noi e cercando di allontanarci dal Signore, vuole la nostra anima in eterno. La Madonna ha avuto il compito di schiacciare quel serpente che ingannò Adamo ed Eva nel paradiso dell'Eder. Ecco che, se preghiamo la Madre di Dio con questa semplice e breve preghiera, ma molto potente, Ella schiaccerà e allontanerà il serpente per noi. Rivolgiamoci dunque ad augusta regina del cielo e chiediamole con forza di schiacciare la testa a Satana. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O augusta regina del cielo e sovrana degli angeli, a te che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, noi chiediamo umilmente di mandarci le legioni celesti, perché al Tuo comando inseguano i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.